La musica è un mezzo e noi attraverso la musica li avviciniamo alla vita e alla società e allo stare con gli altri. La musica è un mezzo e noi attraverso la musica li avviciniamo alla vita e allo stare con gli altri. La musica è un mezzo e noi attraverso la musica li avviciniamo alla vita e allo stare con gli altri. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.